ben a tutti ragazzi eccoci tornati nel nostro nuovo video come al solito io sono gabi io birillo oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido vai birillo esponicelo allora si chiama war machine della l'op l'op gadget un liquidozzo che al suo interno ha cioccolato vaniglia e marshmallow 80 20 80 20 da cloud zero nicotina zero nicotina lo facciamo vedere bene zero nicotina ora andiamo a fare la prova di svapo di questo liquidozzo che abbiamo già visto delle recensioni ne abbiamo parlato bene e tiriamo qualche conclusione a questo liquidozzo vai gabry andiamo a provare sulla mac pro e il druga vai facciamo la prova di questo liquidozzo che all day all day bella anche la boccetta io sento un po di cioccolato e un po di marshmallow leggero leggero molto leggero sento molto blando anche la vaniglia si però molto blando molto blando insomma non è vero carico carico però all day si può accettare si può accettare che voto ci dai a questo liquido 6 6 e mezzo 6 6 e mezzo non mi sbilanciato perché cioè non è il liquido che mi svaperei io perché mi svapo liquidi un po più carichi così che sento un po più di gusto la Roma un po più rossa allora dalla taverna dello svapo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram veniteci a seguire un bacio ciao 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 ciao